Ci siamo? 3, 2, 1, here we go! Hola Burdel, cari amici e cari amici del canale Rugby Z10, appassionate ed appassionate da Pallo Vale, siamo ancora qui su entrambi i canali, su YouTube e su Spotify, per parlare del format, della conversione, del punteggio, dell'Home Championship dell'epoca, utilizzando il metodo moderno. Siamo all'edizione 1888, sesta edizione, prima di cominciare a parlare di questa edizione, di quest'annata, piccolo riassunto. All'epoca le mete valevano 0 punti, gli unici punti erano i calci di punizione, le trasformazioni o i drop calciati in mezzo ai pali e la meta appunto si chiama try perché ogni meta dava l'opportunità, una prova, un try, di calciare la pala in mezzo ai pali. Comunque, 1888, diamo uno sguardo a 360 gradi a quello che succedeva in quell'anno. Partiamo dalla FA Cup, che è il nostro riferimento sportivo, il torneo più antico del mondo per club, perché il torneo più antico del mondo per nazioni appunto è il Championship, attuale 6 nazioni, diciassettesima FA Cup, il West Bromwich Albion alza la coppa davanti al Preston North End, North End, scusate, al Kennington Oval, 19.000 spettatori. Entrambe le squadre attualmente navigano nella seconda divisione inglese, ovvero il Championship. Comunque, West Bromwich Albion, 2, Preston North End, 0, diciassette in maniera della FA Cup. 1888 è l'anno a Whitechapel di Jack lo squartatore, si iniziano a trovare le prime vittime di quello che sarà un clamoroso mistero della Londra degradata di quegli anni. Eastman brevetta la Kodak, ovvero tiene un brevetto sia per il rullino che per la macchina fotografica, una cosa che si siamo portati dietro fino a qualche anno fa, prima dell'arrivo degli smartphone. Tornando al mondo del pallone inglese nasce la Football League, il primo campionato per squadre, per club al mondo, un campionato vero e proprio, vengono giocate le prime sei giornate di questo nuovo torneo. Nati eccellenti Francesco Baracca, delle mie zone, di Lugo, asso dell'aviazione. Nasce Lorenz d'Arabia, personaggio mittico, mistico, e chi più ne ha più ne metta, asente segreto, scrittore, tutto quello che volete. Nasce il poeta Giuseppe Ungaretti. Passa vita migliore, Don Giovanni Bosco, educatore, fondatore dei Salesiani e di tante altre attività giovanili, insomma, un punto di riferimento per tante tante persone che all'epoca avevano bisogno, avevano, cercavano delle certezze e in Don Giovanni Bosco molti giovani si sono trovati a poter avere un futuro. Grazie a Don Giovanni Bosco molti giovani hanno avuto un futuro. E allora, andiamo a vedere quello che ci interessa invece di più a noi, il Championship del 1888. Grossissima delusione perché è un'edizione incompleta, la seconda edizione che non assegna il titolo. dopo quella del 1885 quando la Scozia è rifiutata di affrontare l'Inghilterra, questa volta è l'Inghilterra che fa il pippio e si rifiuta di scendere in campo. Cosa succede? Succede che Irlanda, Scozia e Galles si coalizzano e formano l'International Rugby Football Board, un organismo che detta le regole internazionali del mondo del rugby. L'Inghilterra dice no, noi ci stiamo ma i voti devono essere proporzionali al movimento. Quindi l'Inghilterra che in quel momento aveva un numero spropositato di giocatori in teoria voleva dettare le regole. Gli altri gli dicono Ciccia 25-25-25-25-25 quasi citando Leonardo in non ci resta che piangere e l'Inghilterra decide di starsene fuori. Le altre se ne fregano continuano a giocare non viene assegnato il titolo però si gioca. Andiamo a vedere innanzitutto le location Galles risfoggia Newport con la Rodney Parade l'Irlanda a Dublino a Lansdowne Road la Scozia ed edimburgo il Rebun Pal e il Rebun Place il classico Rebun Place ogni squadra gioca una partita in casa e una partita in trasferta si parte il 4 febbraio mi piace sempre sottolinearlo la Madonna del Fuoco patrona della mia città con un Galles Scozia che termina 0-0 ai pali però il Galles segna un try quindi la vittoria e i due punti all'epoca vengono assegnati al Galles attualmente sarebbe un bel 5-0 con un 4 punti a 1 in classifica 7.000 spettatori al Rodney Parade al Kennington Oval per l'FA Cup 19.000 siamo ancora lontani ma ci arriveremo e curiosità di quell'incontro la Scozia marca 5 volte o perlomeno entra 5 volte in area di meta gallese ma l'arbitro non assegna la meta quindi per 5 volte rimane lì quello che oggi sarebbe il sospeso e vince al Galles un mese più tardi si va a Lansdown Road in Irlanda questa volta il Galles la squadra a far visita agli irlandesi la partita termina 2-0 con una trasformazione e un drop due sono anche le mete oggi sarebbe 15-0 con 4 punti in classifica per l'Irlanda e nessun punto per il Galles all'epoca sarebbero sono stati due punti e nessun punto 4.000 spettatori passano passa solo una settimana e dall'Irlanda a viaggiare l'Irlanda va al al Ribbon Price di Edimburgo e si gioca Scozia-Irlanda che termina con un tranquillissimo 1-0 la Scozia segna una meta e trasforma questa meta in mezzo ai pali quindi al giorno d'oggi sarebbero 7-0 sarebbe un bel 7-0 per gli scozzesi con 4 punti per la Scozia e un punto per l'Irlanda all'epoca la Scozia vinse l'incontro 2 punti e 0 punti per l'Irlanda una classifica in totale parità perché ogni squadra vince il proprio match interno ed ogni squadra perde il match esterno classifica dell'epoca l'Irlanda 2 Galles 2 Scozia 2 classifica ordierna il Galles un periodo più indietro perché Scozia e Irlanda prendono 5 punti il Galles ne prende 4 prendono 5 punti perché la Scozia fa il punto di bonus difensivo con la sconfitta di 5-0 mentre l'Irlanda fa il punto di bonus difensivo con la sconfitta di 7-0 questo è quello che succede in una sesta edizione incompleta siamo ancora un pelo distanti dall'essere straorganizzati l'organizzazione di oggi perché come abbiamo visto c'è il pippio dell'Inghilterra all'epoca molti dirigenti erano comunque i giocatori stessi un'era pionieristica fantastica io continuerò sui miei canali social a promuoverla mi piace un sacco questa cosa e se la cosa vi piace mettete il like mettete la campanella così quando dico qualcosa vi appare l'alert sulle mie performance diciamo così seguite i miei canali social Instagram TikTok Telegram Whatsapp Facebook Spotify Youtube Rugby Z10 vi ringrazio spero che la cosa vi interessi vi continui a interessare commentate sempre qui sotto interagiamo che la cosa mi fa estremamente piacere vi saluto oggi da questa mia location particolare per chi mi vede nel canale perché come ho detto la puntata scorsa le puntate sono abbinate Spotify e Youtube chi mi vedo questa location particolare per chi mi ascolta basta è la mia automobile alla prossima Hola Burdel